Carissimi amici e amiche, siamo insieme per una nuova puntata del Tico di Catechesi dedicato all'Antico Testamento che ha aperto il capitolo di Mosè e dell'Esodo che abbiamo cominciato la volta scorsa, se ricordate, dando la vocazione di Mosè e la grande rivelazione a Mosè di Dio e del suo nome sul monte Oreb, se vi ricordate, siamo rimasti lì. Quindi da lì dobbiamo riprendere, adesso riprendiamo un attimo le slide, rifocalizziamo un pochino, quindi nel capitolo terzo abbiamo visto la storia di Mosè nei primi due capitoli, quindi la nascita miracolosa, le vicissitudini nell'Egitto, come deve scappare e trovandosi in questa situazione di esule, riceve la chiamata del Signore. È tutta una evidente e continua manifestazione di quel grande detto che conosciamo bene, si sperano i credenti, che Dio scrive sempre diritto sulle riche storte e quando c'è una sua opera che deve in qualche modo prendere l'avvio perché nasca, ci sono sempre tante tribolazioni, tante vicissitudini, tanti eventi che la rendono estremamente difficile, Mosè doveva essere morto prima ancora di nascere, da tutti i certi punti di vista, no? È così, questo perché impariamo che nelle opere di Dio c'è un grande detto, nulla nasce senza dolore, nulla si fa senza croce, ecco, proprio perché Dio vuole mostrare che pur servendosi del caos secondo di noi esseri umani, Mosè è stato un grande, tra i più miti e i più santi della Terra, anche se poi come vedremo per una piccola, apparentemente piccola mancanza insomma di fiducia, a seguito dell'esasperazione provocata da continui lamenti del popolo di Israele, si è giocato la possibilità di entrare nella Terra Promessa, quindi anche qui anticipiamo un po' il tema che, come ha detto Gesù nel Vangelo, a chi molto fu dato, molto sarà chiesto e a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Grandi grazie, chiamano poi non solo grandi croci ma anche grandi risposte, grandi impegni tra le parti dei chiamati, perché se l'avendo ricevuto molto poi si fa qualche sciocchezza, ahimè, come diciamo, dalle nostre parti di Roma so dolore. Ci siamo fermati all'Oreb, dopo l'Oreb c'è nella seguente parte del capitolo terzo e del quarto l'invio di Mosè, quindi la vocazione di Mosè. Dio lo manda con l'incarico di far uscire dall'Egitto il suo popolo e c'è tutto quanto un altro tema classico delle storie di vocazioni che il chiamato si sente non all'altezza della situazione e quindi comincia a formulare una serie di obiezioni e vedremo tutte quelle che formano a Mosè e Dio d'una d'una gli rimonta tutte. Poi anticipiamo, non è che va in Egitto e il faraone non stava l'ora, non vedeva l'ora di vederla, di darla a sentire e dice prego, ma datevi buon viaggio. Succede il fin mondo, lo sappiamo tutti quanti, questo lo ricorderemo, la storia. Le dieci piaghe, li mandano via per disperazione, poi il corone appresso, poi il passaggio del Mar Rosso, il farone travolto, quindi c'è tutta una storia divina. Ecco, noi contemplando queste cose, vedete, questo è veramente ciò che resta sempre dell'Antico Testamento, perché con Dio poi è sempre così, le opere divine, quando bastare giù tutte le storie dei santi sono proprio travagliate, travagliate, travagliate. Dio dispone che sia così, perché come scrive San Paolo appaia che tutto questo viene da lui e non da noi. Ripeto, anche se noi dobbiamo metterci la nostra parte e risulta evidente anche dalla vicenda di Mosè. Ecco, detto questo andiamo a prendere qualche altro straccio, adesso cambio della slide, soltanto un istante cambio la condivisione. Passiamo al testo biblico, ok? Ecco, andiamo a vedere, siamo rimatti la volta scorsa proprio al nome di Dio, se ne sono tre dodici seguenti, no? Io sono colui che sono, direi io sono il mio maestro, eccetera, eccetera. Al versetto 16 Dio riprende a parlare. Dopo che gli ha detto chi è? Allora a questo punto va, riunisci gli anziani Israele e di loro il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Mi è apparso dirmi sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. Ho detto vi farò salire dall'umanazione dell'Egitto, verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo, del Buseo, verso una terra dove scorrono latte e miele. Adesso qui questa bellissima è un'espressione ebraica, no? Erez, Zavat, Halav, Udebash, la terra dove scorre latte e miele. Un'espressione che il Signore aveva già formulato ad Abramo. Guardate che tra Abramo e Mosè ci passano circa sei, settecento anni, all'incirca. Quindi questo per dire, anche per chi a volte è un pochino impaziente, che le opere di Dio, oltre che essere caratterizzate dalla croce, le opere di Dio nella storia della salvezza ovviamente, perché Dio per quanto riguarda ciò che Lui è in sé, come dicono i salmi, Egli parla e tutto è fatto, comanda, tutto esiste. In Dio l'azione è assolutamente istantanea, perché a Dio gli basta volere una cosa, perché quella cosa si fa appunto e basta. Nell'economia della salvezza però c'è il discorso molto importante, misterioso, per noi, anche per quanto riguarda, dei tempi. Dio ha i suoi tempi. Abramo era stata promessa della terra promessa, scusate il gioco di parole, Abramo era stata promessa della terra promessa, infatti è così, la terra dove scorre la temiera. Ma lui non c'è entrato e non c'è entrato neanche Isacco, non c'è entrato neanche Giacobbe, ci sono entrati gli israeliti quasi 800 anni dopo e manco Mosè ci entrerà, perché si riporta Giosuè dentro la terra promessa, passando ancora per una montagna di cose, i 40 anni nel deserto, adesso faremo una sintesi. ecco, quindi attenzione a questo dettaglio, quindi come avrebbe detto poi San Paolo, dice il Signore non ritarda nella tempio delle sue promesse, ma usa la pazienza perché tutti abbiano modo di pentirsi. Ci sono molte cose anche molto contemporanee in cui penso molti di noi, io certamente, ogni tanto lo dico al Signore, ma Signore come dicono i sani, fino a quando, Signore fino a quando, Signore fino a quando dovremo vedere tutto quello che vediamo, fino a quando non saranno consumati i tempi dell'Altissimo, poi quando Dio scende in campo, quando entri in azione, vedremo, non ce l'è per nessuno, però mentre nel suo mondo, quindi nel suo orizzonte, agire è istantaneo, quando il Signore si interseca con le vicende del tempo e della storia, si apre questa misteriosa parentesi dei tempi dell'Altissimo. Gesù ne parla, ne immagina, Gesù sarebbe accalpestata dai pagani, per esempio finché i tempi dei pagani siano compiuti, questi misteri. Quindi nella notte di Pasqua, nella veglia di Pasqua, attenzione, sapete quando il Sifo dote benedice il Cero che incide le lettere dell'anno in corso, ci sono tutta una serie di preghiere che accompagnano questi gesti, alcune delle quali evidenziano proprio l'importanza del tempo, noi viviamo nel tempo, il tempo non è la dimensione dell'Altissimo, l'Altissimo vive nell'eternità increata tra l'altro, però lui si coinvolge nel tempo, lui si interseca nel tempo, Gesù Cristo di fatto, il figlio di Dio fatto uomo, inventando uomo è entrato nel tempo e nella storia, ma anche qui in questo primo grande intervento specifico di Dio, qui Dio entra nella storia degli israeliti in maniera puntuale, precisa, allora Dio dice, essi ascolteranno la tua voce, gli ebrei, tu e gli anziani di Israele andrete al re d'Egitto e direte, il Signore Dio degli ebrei si è presentato a noi, ci si è permesso di andare nel deserto per giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore nostro Dio, aggiunge il Signore, io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire, se non con l'intervento di una mano forte, stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi come ero in mezzo adesso, dopodiché egli vi lascerà andare, quindi attenzione, qui il nostro Signore aveva detto tutto, aveva già predetto tutto. Cominciamo, facciamo qualche pezzetto, è impossibile leggere tutto, cominciano le e qui è apparso il Signore, il Signore gli disse che cosa ha in mano, gli spuso un bastone, lo gettò a terra, lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire, qui ricordiamo sempre il famoso dieci comandamenti con Cialto Onesto, tutte queste scenette, il Signore disse a Mosè stendi la mano e prendilo per la coda, stesse la mano e lo presi diventò di nuovo un bastone nella sua mano, questo perché credano che ti è apparso il Signore è Dio dell'Europati, di Abramo e di Isacco e di Giacobbe, l'altra cosa è mettere la mano nel seno, è scelerosa, rientra nel seno, eccetera, eccetera, il secondo segno, quindi qui c'è il tema, anche questo è un tema molto importante, lo attualizziamo subito, ricordiamo sempre che queste sono catechesi bibliche, quindi noi naturalmente dobbiamo andare a vedere la storia, però dobbiamo anche capire gli insegnamenti universali che da questo viene dato, allora Dio suscita i suoi uomini ma li accredita attraverso dei segni, non sempre come in questo caso segni straordinari e soprannaturali, a volte ci sono dei segni semplicemente ordinari, molto molto più ordinari, quali possono essere per esempio i segni segni ordinari secondo noi di un uomo di Dio? Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo, si riconosce l'albero dai suoi frutti, quello è il segno perpetuo anche quando non ci sono cose straordinarie, guarda i frutti che produce la predicazione, l'azione, l'esempio di qualcuno e capirai, guarda anche come dire, i riverberi che provoca in te e capirai se qualcuno viene da Dio oppure no. I padri della Chiesa qualcuno, se non ricordo male, non ricordo, ma siccome origine su questo da veramente a notte, tentarono anche qualche interpretazione simbolica insomma di questo bastone che diventa serpente e di questa mano, però qui si entra in un mondo veramente veramente grande, quasi sempre dietro la lettera della saga scrittura c'è l'interpretazione allegorica, ma se il nostro Signore non accende qualche lampadina diventa molto difficile compierla. Allora, la prima ambizione mi devi accreditare per il popolo perché altrimenti non ci crederanno che mi si è perso, risolta. Poi c'è un'altra, ah io non so parlare, questa è un'obiezione di molti profeti, non sono un buon parlatore, addirittura sono impacciato di bocca e di lingua. Oh, questo è un precedente, eccellente, perché sapete chi altro era impacciato di bocca e di lingua? Un po' chi lo sanno, ma pare che fosse così. San Paolo Apostolo, pensate, uno dei più grandi predicatori di tutti i tempi, insomma, che ha predicato ovunque, impacciato di bocca e di lingua. Quindi, un po' balbutiente, forse non con una dizione perfetta o non capace di articolare discorsi, probabilmente si parla proprio, come dire, di una dizione non perfetta, ecco, quando uno ogni tanto si incanta un po', balbetta un po', ecco, perché poi Mosè ha fatto grandi discorsi, no? Ecco, Gesù dice, attenzione, chi ha dato la bocca all'uomo non sono forse io, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. E qui poi Mosè dice, perdona signora manda che vuoi andare e attenzione, questa risposta non è proprio. Allora la collera del signore si è accese contro Mosè e gli disse, non vi è forse tuo fratello in le vita? Io so che lui sa parlare bene, anzi, sta venendo d'incontro, ti vedrai giocare ancora su, tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca e vi insegnerò quello che dovete fare. Parlerà lui al popolo per te, egli sarà la tua bocca e tuffare per lui le veci di Dio. Abbiamo risolto anche il problema del parlare. C'è poi una parentesi, ecco, con i legami familiari di Mosè e poi Mosè e Aronne si mettono in cammino verso la fine del quarto capitolo e cominciano a accreditarsi presso gli israeliti e quando Aronne parla al popolo, riferendo tutte le parole che il signore ha detto a Mosè e compì i segni davanti agli occhi del popolo, il popolo vedette. E quando dirono che il signore aveva visitato gli israeliti e che aveva visto l'afflizione, essi si inginocchiarono nel sicuro strano, nel momento bellissimo in cui si ha l'esperienza che finalmente Dio ha accolto una preghiera accorata, accorata, accorata e protratta per lungo tempo, lungo tempo, lungo tempo e finalmente il signore mi ha ascoltato. come predetto però, che cosa succede? Vanno dal faraone e il faraone mica gli dice buon viaggio. E qui c'è un altro tema classico delle orbe di Dio. Classico. le difficoltà che insurbo, i contrasti, le apparenti addirittura, come dire, cioè le cose dovrebbero andare secondo quello che io penso in un certo modo, vanno esattamente al contrario. Aronimo si dicono, come il signore ha detto, lascia partire il mio popolo perché andrà a fare questo sacrificio. E chi è il signore? Perché deve ascoltare la sua voce e lasciar partire Israele. Io non conosco il signore e non lascerò partire di certo Israele. Cerca di persuaderlo. E l'Egitto cosa fa? Tornate ai vostri lavori forzati. Anzi, non soltanto delle orbe di forzati. Anche qui c'è Don Heston, i dieci comandamenti. Non darete più la paglia al popolo, andranno a cercarsi da sé la paglia, ma il numero dei mattori devono essere sempre gli stessi. Perché sono, fanno un loto, protestano, protestano. E quindi che succede? Succede che poi i sovrintendenti uniscono gli ebrei perché evidentemente non portavano la stessa quantità di lavoro, li bastonano, versetto 14, qui, e gli scrive che gli israeliti vanno dal faraone e dice perché tratti così noi serbi. E lui va, fanno un loto, fanno un loto, fanno un loto. E che succede? Incontrano Mosea Ronne e dicono loro, bella roba che avete combinato. Dobbiamo uscire dall'Egitto, giusto? Dice il signore si ricorda di noi. Guarda, guarda, guarda come siamo ridotti. Ci avete ridi osi agli occhi del faraone, agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci. Altra caratteristica delle opere di Dio. Quindi tu parti, ti aspetti di fare chissà che cosa e quindi antiché incontrare un immediato, come dire, trovi un botto, proprio un blocco, un'apparente difficoltà insormontabile, un'opposizione. Mosea e Ronne dicono, abbi pazienza, signore mio, ma oh, questo ci fa tutt'altro che uscì. E il signore dice, stai calmo, buono, ora vedrai quello che sto per fare al faraone. e cominceranno poi piano piano. Allora, che cosa succede? La prima cosa, adesso cambiamo slides perché andiamo un pochino veloci, torniamo, cambiamo, torniamo alle slides così andiamo a vedere rapidamente le dieci piaghe, quali sono, senza bisogno di leggere evidentemente tutti quanti il testo perché possiamo poi farlo personalmente, siamo alla slide successiva, i capitoli dal settimo al dodici cominciano le piaghe. Cosa servono? Queste piaghe sono la progressiva manifestazione, la potenza di Dio per persuadere gli israeliti, gli egiziani a lasciare liberi gli israeliti. Le piaghe sono, non a caso dieci, prima l'acqua che diviene sangue, poi le rane, poi le zanzare, poi i mosconi, poi muore il bestiame, poi le ulcere, poi la grandine, poi le cavallette, le tenebre e poi aurite, aurite, la strage dei primogeniti. Strage dei primogeniti che è la goccia classica che fa traboccare il vaso e quello che poi avrebbe provocato non soltanto la partenza ma il faraone che dice basta, ne abbiamo abbastanza, non ne possiamo più, adesso andate bene voi. Questo come prima istanza, come tutti sappiamo, come tutti ricordiamo, dopo un po' ci ripenta, inseguono e poi arriva il grande momento del passaggio del Mar Rosso, no? e cioè il capitolo 12 e il capitolo 14, che qui qualche cosa, forse è il caso di andarlo a vedere. Vorrei concludere la presentazione. Dopo il passaggio del Mar Rosso, che succede? Dieci comandamenti e prescrizioni, tutta la legislazione cultuale, per fare in modo che già nell'Esodo, attraverso la cosiddetta tenda del convegno, Israele, potesse cominciare ad avere, ad abituarsi al culto necessario da rendere a Dio. Quindi tutte quante le prescrizioni, i capitoli 15 a 40, in Esodo 20 ci sono i dieci comandamenti. Negli altri capitoli, tutte quante le norme su come doveva essere costruita la dimora, e può essere proposta tutte quante le cose, che tipi di sacrifici fare, eccetera, eccetera. Ecco, il cammino di Israele nel deserto è ripreso anche nei libri dei numeri, nel libro dei numeri e nel libro del Deuteronomio, che è bellissimo, perché proprio una gran parte del Deuteronomio è una grande lettura sapienziale delle vicende di Israele nel deserto, importantissimi. Ci sono dei passaggi veramente memorabili che cercheremo di vederli, no? Quindi, andiamo a vedere qualche passaggio veloce della Pasqua e dell'uscita dall'Egitto. Rapidamente andiamo verso il capitolo 12. Ci sono innanzitutto le disposizioni date dal Signore, no? Questo mese sarà per buon inizio dei mesi. Il primo mese dell'anno. Ciascuno si procura un agnello per famiglia, un agnello per casa. È importante conoscere la Pasqua ebraica. Perché? Perché leggiamo questi brani pensando a un altro agnello immolato, a un'altra Pasqua, no? Un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia si salvicina, eccetera, eccetera. Il vostro agnello sia senza difetto, maschionato nell'anno. Lo conserverete fino a 14 di questo mese, allora tutta l'assemblea della comunità lo immolerebbe al tramonto. Senza difetto, maschio. Capiamo, no? Immolato al tramonto. Anche qui. E preso il sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne, attenzione, arrosti al fuoco, con azimi, anche qui. Lo mangerete con i fianchi cinti, i santo e i piedi che sono in mano. È la Pasqua del Signore. In quella notte che cosa succede? Io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primo genito. Il sangue sulle case, il versetto 13, dove vi troverete, servirà da segno in vostro favore. Io vedo il sangue e passerò oltre. Attenzione che qui, per andare a vedere il testo originale. Eccolo qua. Veraiti, io vedrò, et haddam, il sangue. E attenzione, La Pasqua in ebraica è il pesach, il verbo è pasach, che significa passare oltre, passaggio, alechem, passare oltre voi. Non ci sarà per voi, su voi, meglio, negef, le mashkit, flagello di sterminio, be, chakoti, be'ez, mitzraim, quando colpirò la terra d'Egitto. Quindi qui ci sono, qui me le ricordo, le grandi interpretazioni dei padri della Chiesa, quando parlavano, quando noi partecipiamo al divino sacrificio, dove l'agnello viene immolato, è lui, la nostra salvezza, il sangue, l'angelo sterminatore, il sangue di cui si imporpano le nostre labbra, sapete che nei primi tempi era diffusa la comunione sotto le due specie, quindi se l'angelo sterminatore trova quel sangue di cui sono bagnate le labbra dei cristiani, non ha nessuna possibilità di fare alcun male, quindi è. E poi c'è il capitolo 14, in cui l'esodo si compie, quindi dopo le grandi manovre, le grandi azioni del Signore escono, gli egizi premini seguono, e qui nel capitolo 14 c'è il famoso episodio del passaggio del Mar Rosso, anche qui ci si ritrova di nuovo in una situazione senza uscita. Allora, che succede? Gli israeliti a un certo punto arrivano presso il mare, gli egiziari li inseguirono e gli aggiungivano mentre si stavano accampati presso il mare, tutti i cavalli che arredichano il faraone e i suoi cavalieri e i suoi serci erano presso Pia Chirot davanti a Baaltefone. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi, gli egiziani marchavano dietro di loro, allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore, grande paura, non poca. Vairu me'od temettero molto Vairu me'od 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 I figli di Israele gridarono al Signore e che cosa dissero a Mosè? Uè, forse perché non c'erano sebolchi in Egitto che ci erano portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo lasciaci stare e serviremo gli egiziani perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire? Quindi, altro punto. Si arriva ad un momento in cui sembra che sia stato tutto inutile, in cui sembra che il male prevalga, sembra che non ci sia via di uscita. Guardate che anche nella vicenda di Nostro Signore Gesù Cristo è stata la stessa identica cosa, perché la sera del Venere di Santo è un pochino l'equivalente di questo momento drammatico per gli israeliti. È finito tutto. Siamo morti, davanti ci abbiamo il mare, noi abbiamo questi infrociti con una montagna di carri e di cavaliere ci massacrano questi qui. Non c'è nessuna speranza. Ed ecco di nuovo un altro passaggio, un'altra vasqua. Si aprono le acque del Mar Rosso. Stende la mano, lo divide ed ecco attenzione, un passaggio fondamentale, questo è meglio commentarlo. Ecco, rendo ostinato il cuore degli egiziani così che entri in un dito di loro e gli dimostri la mia vera sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Ora, questo passaggio è importante perché qui vedete la teologia biblica attribuisce a Dio la causalità di tutte le cose. Sembra che Dio sia la causa non soltanto del bene ma anche in un certo senso del male. Io rendo ostinato il cuore degli egiziani quindi significa che gli egiziani stessi come dire sembrerebbe ad una lettura superficiale e letteralistica che Dio stesso abbia indurito il cuore del faraone ma non è così. più avanti nel corso non soltanto della sacra scrittura ma anche della riflessione teologica che è necessaria ma questa è una cosa tipica della mentalità semitica e adesso non voglio ripetere che credo che già l'altra volta abbiamo fatto un pochino di riferimenti alla grammatica gli ebrei hanno il verbo il tempo causativo che li fila proprio perché per la loro testa la causa di Tà è fondamentale e Dio è semplicemente la causa di tutto ciò che è quindi loro non distinguono quella che noi chiamiamo la causalità diretta quindi Dio è causa diretta del bene ma non è causa diretta del male del male è soltanto causa remota nel senso che lo permette lo prevede e lo permette dopo averlo previsto perché attraverso quel male può trarre fuori un bene ecco questo gli israeliti non lo distinguono quindi pensate alla famosa gestione tanto per per dirne una che ha fatto suscitato tante polemiche del padre nostro non ci indurre in tentazione pochi sanno per esempio che San Giacomo Apostolo ne parla esplicitamente nelle sue lettere guardate che nessuno dica mai che Dio ci induce al male perché Dio non ci induce al male non ci induce alla tentazione al male ci induciamo da soli con le nostre passioni oppure perché pompati dal diavolo quindi una delle interpretazioni di questo famoso passaggio non permettere che cadiamo nella tentazione quindi quell'espressione si 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 tutto l'orizzonte biblico perché questa è una costante se possibile tiene lontano da me la tentazione ma se arriva dammi la forza di combatterla poi c'è anche l'altro aspetto quello più direttamente coinvolto il mesenenches erasmon il fatto che Dio ci mette alla prova come ha fatto con Abramo e quindi non ci indurre in tentazione si chiede anche signore se è possibile le prove tienile lontane però se dovessero arrivare la stessa cosa dammi la forza di superarle le tentazioni vanno vinte le prove vanno superate per essere amici di Dio e degni dei suoi doni lo sappiamo poi il resto quindi e teniamo sempre presente un'altra cosa bellissima la rivediamo qui nel versetto 19 che durante l'esodo Dio guidava il proprio popolo di giorno con una colonna di nube e la notte con una colonna di fuoco ecco il passaggio meraviglioso del versetto 20 che succede che a un certo punto l'angelo di Dio con la relativa colonna passano davanti al di dietro e quindi che succede che la nube era tenebrosa per i nemici e per gli altri illuminano notte quindi vedete come è meraviglioso vedere come Dio ha tutto provvedo e poi c'è il famoso passaggio del Mar Rosso quindi tutti morti Israele vide la mano potente con la quale il Signore ha reagito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e nel suo servo Mosè quindi si arriva al momento critico nel momento critico quando tutto sembra perduto Dio interviene e rovescia completamente la situazione si pensi la sera del venerdì santo e la mattina di Pasqua siamo sempre noi siamo sempre nella gioia siamo sempre nella speranza ci sono fitte tenebre che adesso come dire sono posate sulla sposa di Cristo e anche sul mondo ma non dobbiamo mai dubitare che anzi quanto più si vanno infittendo quanto più sembra sembra che tante cose vadano rotoli sembra che tante cose siano irreversibili sembra che tante cose siano tradute tanto più forte deve essere la nostra fede alla luce alla luce di questi avvenimenti ecco perché è importante l'Antico Testamento San Paolo quando commenta tante cose soprattutto nella lettera degli ebrei che è proprio una grande rievocazione di alcuni passaggi fondamentali prevalentemente cultuali ma non solo dell'Antico Testamento dice guardate tutte queste cose sono state scritte per noi per nostro ammonimento perché noi imparassimo da queste cose ecco perché la lettura e la conoscenza dell'Antico Testamento è così importante perché certamente dietro le contingenze degli eventi che sono successi e che certamente non si ripeteranno così alcune cose sono obsolete per esempio tutta quanta la legislazione cultuale dell'Antico Testamento è tutta decaduta perché nel Nuovo Testamento c'è soltanto un sacrificio che si offre a Dio uno cultuale la messa e basta poi noi offriamo i nostri sacrifici esistenziali al Signore che più ne offriamo meglio è vi esorto a offrire i vostri corpi con sacrifici viventi santi che lo dite a Dio che per esempio San Paolo ecco però queste grandi cavi di lettura che poi dobbiamo prenderle per decodificare quello che ci accade quello che accade intorno a noi vedete quanto sono importanti avere questa lettura no? è importantissimo quindi c'è poi il grande canto di Mosè la notte di Pasqua ecco è stato anche il canto con cui abbiamo introdotto l'incontro di questa sera vedete poi inizia la grande sezione nel deserto e la prima grande sezione sono le tappe verso il Sinai d'accordo? anche questo esorto la lettura personale perché è impossibile leggere tutto chiaramente arriviamo poi al al Sinai che è il capitolo 19 le premesse quindi Mosè sale verso Dio il Signore lo chiama e gli dice questo direi alla casa di Giacobbe vedete questo è un passaggio fondamentale voi stessi avete visto ciò che io ho fatto dall'Egitto e come ho sollevato voi su Ale di Aquile e vi ho fatto venire fino a me ora se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli mia infatti è tutta la terra Mosè va riferito al popolo il popolo che dice quanto il Signore ha detto noi lo faremo Mosè va incontro al Signore attraverso la nube dice di riferire al popolo fallo santificare oggi e domani lave non le vesti si tengono pronti per il terzo giorno vedete i numeri non simbolici quando il Signore scenderà sul monte Sinai la grande Teofania i fuochi i fulmini i terremoti il frastuono con cui boom proprio Dio in maniera forte ha promulgato le immortali dieci parole scritte a caratteri di fuoco anche sulle tavole di pietra e poi Mosè che va a promulgare al popolo come ho detto come che voi accennavo siamo ai suoi 20 attenzione una cosa fondamentale con il passaggio di prima Dio prima di chiedere dà questo è sempre molto importante cioè Dio non arriva come in primo approccio a chiederti di osservare i suoi recetti ma la prima cosa che fa e la fa anche con noi è manifestarsi farsi è farsi conoscere come salvatore come uno che sta dalla tua parte come uno che tira fuori dai guai come uno che è degno di essere ascoltato e obbedito perché ha fatto solo tanto 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 bene ecco chi incontra il Signore questa cosa la vive e è solo nella misura in cui noi siamo forti in questo più in questo siamo forti quindi più abbiamo in qualche modo vissuto l'esperienza la percezione profonda di quanto Dio ci vuole bene e più questo è forte e più saremo come dire spediti nel servirlo dicevamo qualche giorno fa Dio ci ha creato per conoscerlo amarlo e servirlo il servito è il terzo step il secondo è l'amore ma il primo è la conoscenza e Dio si fa conoscere da chi lo vuole conoscere se tu non lo conosci non lo ami e se non lo ami non lo servi se tu lo conosci è come se lo ami e se tu lo ami come se lo servi quindi guardate che attenzione che ci sono purtroppo battezzati che hanno sempre vissuto come dire una vita cristiana un pochino a rimorchio un po' di tradizione un po' di convenzione che Dio praticamente quasi non lo conoscono per niente è come quando ci sono persone che magari per una vita hanno detto qualche preghiera quindi hanno recitato qualche preghiera ma forse in senso stretto in senso forte in senso profondo non hanno pregato mai guardate anche la formulazione del primo comandamento che ogni tanto ce la dimentichiamo io sono Yahweh Anohi Adonai Eloheha io sono Yahweh meglio ancora quindi il nome proprio di Dio tuo Dio tuo Dio cioè io sono Yahweh tu mi hai scelto come tuo Dio perché perché visto che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto Erez Mitzraim dalla casa di schiavitù Nibet Avadim dalla casa degli schiavi dalla condizione servile primo triprostrerai davanti a loro quindi noi non ci prostriamo davanti a nessun altro ma davanti al Signore ci prostriamo come ecco io sono un Dio geloso anche qui tutti quelli che sentono Dio sono un Dio geloso no che ora che cos'è questa cosa qua Dio geloso ma la gelosia di Dio non è un difetto come in noi la gelosia di Dio è una cosa bella perché Dio sa che se ti allontani da Lui è la fine per te d'accordo e sa anche che se il tuo cuore non è tutto suo ma si divide con qualcos'altro o qualcun altro è la fine per te i dieci comandamenti quando pronuncerai ma non vedo il Signore tuo Dio e quelli che che conosciamo no non uccidere non commettere adulterio non rubare eccetera eccetera dopodiché abbiamo visto tutta questa ampia parte dedicata alla legislazione cultuale ecco usciti dall'Egitto comincia il grande passaggio del popolo di Israele nel deserto un'esperienza veramente importante allora che cosa succede durante il tempo del deserto vediamo se abbiamo ancora un pochino di tempo vediamo un po' prendere percezione del tempo sì possiamo vederle eccezionalmente queste cose ok abbiamo abbiamo le tre grandi prove del deserto e l'episodio emblematico stavolta descritto nel libro dei numeri del libro del serpente di Brun la manna l'acqua e il vitello d'oro ora queste tre momenti critici penso che tutti quanti lo sappiamo sono esattamente quelli che Gesù avrebbe poi vissuto nel suo deserto attenzione non casualmente 40 giorni e con le tre tentazioni del diavolo uno a mangiare il pane appunto la manna uno vedremo postrarsi ad adorare gli idoli il vitello d'oro e l'altro questo dell'acqua è veramente emblematico perché l'acqua fu un tentare Dio tentare Dio significa o tu fai quello che dico io oppure io non faccio più un passo davanti è mettere alla prova il Signore è capovolgere completamente l'ordine delle cose non siamo noi che dobbiamo mettere alla prova il Signore dunque vediamo un po' se fai quello che dico io io ci credo in te altrimenti no non funziona proprio così è Dio che dice se fai quello che ti dico io quindi ti subordino questa grazia e questa prova la grazia e la presenza no è stato di contraria andiamo a vedere nei dettagli qual è il grande piccolo del serpente di bronzo dettaglio di questi tre momenti critici allora il primo capita abbastanza presto addirittura prima ancora dei Dieci Comandamenti dopo il passaggio del Mar Rosso guardate come è incredibile la memoria corta dei figli degli uomini fanno manche in tempo uscire dall'Egitto e già cominciano a lamentarsi e a dimenticare facilmente allora cosa dice il testo nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aaron il verbo mormorare è questo qui il verbo l'on che significa in inglese to grumble quindi proprio è è il brontolare è il lamentarsi ecco e che dicono fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto quando eravamo seduti presso la pentola della carne mangiando pane a sazietà invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine vedo un'altra ancora difficoltà superata la prima cominciano ecco perché Gesù una mangiata lo dice chiunque mette in mano la rata ma poi si volge indietro non è adatto per il regno dei cieli no stavamo meglio prima tante volte ce lo siamo abbiamo sentito dire e Gesù e il Signore scusate risponde io farò piovere pane dal cielo per voi c'è bisogno di ricordare quello che c'è dietro questa cosa ricordiamo il discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao dice non Mosè che ha dato il pane dal cielo ma il Padre mio che ha dato il vero pane dal cielo quello vero o che cosa altro ha detto Gesù non affannatevi per il domani cosa mangeremo cosa terremo cosa vestiremo a ciascun giorno basta la sua pena dacci oggi il nostro pane quotidiano come funzionava con la manna il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la orazione di un giorno perché io lo metto alla prova per vedere se cammina o no secondo la mia legge ma il sesto giorno siccome il sabato non si lavora quando prepareranno quello che dovranno portare a casa sarà il doppio di ciò che l'hanno raccolto ogni giorno ecco quindi e attenzione il nome manna come si vede qui veria dal fatto che vedendo questa cosa fine granulosa che prende il luogo della rugiada gli israeliti ravindo e si chiedono in ebraico come si dice che cosa cos'è questo cioè che cosa si direbbe ma con la finale però siccome c'è davanti una radicale semimuta con una vocale ma 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 allora attenzione voi così fanno gli israeliti che fanno gli israeliti Mosè dice raccoglietene ciascuno quanto mangiarne un nome a testa non di più e invece che fanno gli israeliti e raccolsero chi molto chi poco colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo colui che ne aveva preso di meno non ne mancava e attenzione nessuno ne faccia avanzare fino al mattino vedete quelli che si preoccupano per il domani che succede non obbedirono a Mosè e alcuni le conservarono fino al mattino si generarono vermi e imputridi e Mosè si irritò contro di loro cioè più che si irritò qua è vai x off quindi vai x off non è semplicemente irritarsi in inglese to be angry è proprio arrabbiarsi de brutto d'accordo? ecco quindi vedete come gli insegnamenti di Gesù non affannatevi per il domani a ciascun giorno basta la pena dacci oggi il nostro pane quotidiano eccolo quindi capiamo perché è così bello e importante l'antico testamento no? andiamo a vedere l'altro episodio cioè l'acqua è su 127 anche qui prima ancora dice i comandamenti eh dice adesso abbiamo mangiato ma c'è un altro problema che noi abbiamo sete tutta la comunità degli israeliti eh versetto 1 ma non c'è acqua da bere per il popolo il popolo protestò contro Mosè dateci acqua da bere Mosè disse loro ma perché protestate con me perché mettete alla prova il Signore mettere alla prova eccolo qua ma tenna sun nasa è mettere alla prova provo a fare un test di nuovo formulazione contro Mosè e Mosè che dice passa davanti al popolo prendi con te alcune anziane prendi il bastone va starò davanti a te sulla roccia tu batterai sulla roccia riuscirà acqua e il popolo berrà adesso qui l'episodio finisce così ma nel libro dei numeri si specifica che Mosè batte due volte sulla pietra e quella verba atturro due volte sulla pietra fa sì che Dio interviene e dice ah è dubitato bene tu non inturrai il popolo nella terra promessa e si chiamò quel luogo Massa e Meriba a caso della protesta qui stanno protestando qui se non arriva l'acqua non lo facciamo neanche un passo scenda l'acqua capite no? vogliamo vedere anche qui il Vangelo? quale segno tu fai perché noi possiamo credere? no? quindi pretendere un miracolo per credere mettere alla prova il Signore ma questo non funziona è quando il diavolo dice Gesù buttali di sotto facciamo una punto primo facciamo una grande cosa punto primo così sta scritto che agli angeli ti darà manda gli angeli a raccogliarti no punto primo vediamo vediamo se è vero buttali di sotto e poi guarda quale grande cosa eh bello no eh no non si mette alla prova il nostro Signore Gesù la supera l'ultima tentazione il vitello d'oro questo è dopo i dieci comandamenti siamo molto avanti capitolo 32 sappiamo tutti quanti Mosè stanno ancora sul monte perché poi è tornato sul monte ecco qua il popolo prende come se tardava a scendere dal monte fece l'attentona da Ronne fa per noi un Dio che cammina alla nostra testa perché a Mosè quel luogo che ci ha fatto uscire dall'altra distanza non sappiamo cosa sia accaduto e a Ronne cade la caduta dei grandi prendono queste cose e fanno sto vitendo loro addirittura poi si alzano presto offrono causti e dopodiché solite cose come sono insinuate nel vitello d'oro gli idoli del mondo mangiare bere e divertirsi versetto 32 versetto 6 il signore interviene e dice scendi Mosè scendi questi si sono pervertiti Dio minaccia di sterminarli e Mosè intercede per loro però Mosè scende dal monte e scende dal monte di nuovo l'ira di Mosè si è accese scaglia le mani scaglia dalle mani le tavole e le spezza ai piedi della montagna ultimo episodio che vediamo cambiamo cambiamo libro biblico andiamo a vedere i numeri ci andiamo a vedere prima di di concludere l'episodio dei serpenti l'episodio dei cosiddetti serpenti anche questo citano dal Vangelo ecco perché lo cito nel Vangelo di Giovanni come Mosè innalzò il serpente nel deserto è di nuovo causato dalla ormolazione dalla lamentosi da lamentarsi in continuazione Dio riempie il suo popolo di beneficio e questi non sanno altro che lamentarsi sempre di tutto e di tutti qui non c'è pane qui non c'è acqua eccetera eccetera si sono ausiati da questo cibo così leggero allora il Signore manda serpenti brucianti i quali mordevano la gente un gran numero di di morire quando quando serpente si ramentano per carità mandarsi i serpenti Dio dice fatti un serpente e mettilo sopra un'altra figura misteriosa chiunque sarà stato morso e lo guarderà restere in vita questa è una classica in base all'interpretazione che ne fa Gesù tipologia biblica cioè c'è una figura misteriosa voi capite mettere il serpente di bronzo sopra un'asta sapete che il serpente chi simbolizza il serpente il serpente antico quei serpenti che mordevano gli israeliti non è altro che il delenno mortale di chi si sta lamentare in continuazione di nostro signore il serpente muore sulla croce di nostro signore quindi capite che un serpente un serpente messo su un'asta vuol dire quell'asta lo sta lo sta uccidendo ed è sulla croce che Gesù ha ucciso diciamo così il peccato proprio alla lettera ma il demonio non nel senso che gli ha tolto l'essere ma lo ha completamente vinco e disarmato questo è un chiaro esempio altro elemento importantissimo nell'antico testamento io ho fatto la tesi di dottorato su questo si chiama la tipologia cioè c'è una figura un fatto misterioso generalmente o anche troppo misterioso nell'antico testamento che poi nel nuovo se ne comprende la piena significazione perché c'è un altro fatto che lo riprende completandolo e che gettandoci una luce retrospettiva ne fa comprendere la significazione come dire prolettico simbolica che aveva il momento in cui fu posto in esse bene amici per oggi possiamo fermarci con la prossima puntata sicuramente chiuderemo questo grande capitolo ecco di Morè e dell'Esodo per proseguire la nostra avventura ci vediamo se ti vuole alla prossima puntata di voi benedica e la madonna sempre e l'esodo e l'esodo picco Grazie a tutti.